Regione Toscana, Tribunale per i minorenni e Istituto degli Innocenti hanno siglato a Firenze due accordi che rafforzano la collaborazione fra i tre enti. Nelle immagini vedete la presentazione degli accordi nella sede della Presidenza della Regione Toscana di Palazzo Strozzi Sacrati. Il primo dei due protocolli ha l'obiettivo di sviluppare la collaborazione in materia di promozione dei diritti dei minori e di sviluppo del sistema informativo regionale attraverso la coprogettazione di percorsi di formazione e supporto alle funzioni del Tribunale con la messa a disposizione dei dati regionali sulla condizione di infanzia e adolescenza. L'altro accordo tra Regione e Istituto degli Innocenti dà attuazione alla legge regionale del 2000 che ha affidato all'Istituto la funzione di osservazione sulla condizione dei bambini e dei ragazzi e valorizza il ruolo del Centro regionale per l'infanzia e l'adolescenza che nell'Istituto ha sede. Tutti e due gli accordi siglati hanno durata di tre anni. Grazie a tutti.